41 anni, ma continua a fare gol importantissimi e decisivi come quello di oggi, 1-0 al 90esimo. Gigi, un gol che ha evoluto fortemente, si è visto su quella palla che è in aria, qualche rimpallo e poi la butti dentro. Ma al di là del gol che comunque fa sempre piacere, ma fa più piacere per la squadra, perché comunque stavamo in un momento importante anche di forma, di risultati e volevamo sicuramente vincere questa partita, perché è inutile che nasconderci, era una partita fondamentale da vincere, anche se è arrivata comunque con un po' di sofferenza, però l'importante è averla portata a casa. Settimana scorsa a Cassino si è andato vicino al gol, però un salvataggio sulla linea ti ha negato l'euforia, invece questa volta è andata meglio. No, per fortuna è andata bene oggi, anche domenica ci potevamo fare bottino pieno, però avevamo fatto comunque una buona prestazione contro la seconda in classifica. Merito del gruppo, perché veramente non sta mollando un attimo, è una squadra che si allena veramente a mille tutta la settimana e quindi adesso stiamo raccogliendo i frutti sperati. Nel primo tempo le occasioni migliori per il Gladiator, poi nel secondo tempo si è visto un buon ansio, però comunque poi la forza, l'orgoglio e anche lo spirito del Gladiator per vincere questa partita. Primo tempo sicuramente abbiamo fatto meglio rispetto al secondo tempo, abbiamo avuto qualche palla a gol, però fa parte del gioco, anche loro nel secondo tempo potevano farci male, però va merito a questo gruppo di non mollare mai, perché noi eravamo convinti che anche fino alla fine potevamo sboccarla e così è stato per fortuna. Sei arrivato a ottobre, quando comunque la situazione era un po' diversa, anche non si vinceva in casa da parecchio tempo, invece adesso è tornato il piccirillo, quello che comunque noi tanto amiamo. È bello vedere tanta gente che festeggia e vi sprona alla vittoria. Ma guarda, il merito è anche dei tifosi, perché anche oggi ci hanno trascinato e quindi fa piacere. Se siamo uniti possiamo essere veramente una squadra che può far male a tutti, lo stiamo dimostrando, però adesso mancano ancora sei partite e sicuramente da domani già dobbiamo pensare a giovedì, perché il cammino è ancora lungo, però ripartire da questa fame e da questa voglia di vittoria.